Ciao, sono Gianluca Bocci e oggi ti parlo di alcuni tipi di fotografia davvero davvero molto tecnici. Sono, avete visto sulla copertina, la water drop photography, sempre con l'inglese terribile, che sarebbe la fotografia di collisioni da gocce d'acqua e rientra nel calderone della speed photography, che è un genere di fotografie, Google si va a fotografare delle cose che avvengono molto rapidamente e richiede degli strumenti molto particolari, solitamente dei trigger, ovvero dei sensori che attivano lo scatto quando succede qualcosa. Io in questo senso ho già fatto un progetto, vi rimando qui sopra la descrizione, che si chiama Telecomanduino, ovvero una cosa incredibilmente complessa, ci ho messo a mente tanto tanto tempo per costruirlo che non vi fate un'idea che si basa su Arduino. E quando si parla di water drop photography c'è un mio amico, Gianluca Sambo, di cui vi rimando qui sopra il suo canale YouTube, dove dovreste trovare appunto anche un video che spiega di come lui fa la water drop photography, anzi lui la chiama drop art, art appunto della caduta delle gocce, in cui crea delle immagini stupende di collisioni tra gocce d'acqua. E anche lui utilizzando Arduino, ma se noi siamo un po' bigliacchi potremmo prendere un aggeggino già pronto all'uso come questo piccolino qui, che si chiama Pluto, come il cane appunto di Topolino, il Pluto Trigger, che è tanto piccolo quanto farcito di sensori che abbinato alla sua app permette di fare tutto tra cui controllare appunto un'elettrovalvola, che si chiama appunto Pluto Valve, e con cui ho fatto l'immagine di water drop photography che avete visto in copertina, ma insomma secondo me siete belli curiosi. E quindi andiamo a vederlo in dettaglio con un video che sarà lungo, perché di funzioni, ragazzi, ce ne sono tante. Allora, questa è la confezione di vendita, la andiamo ad aprire. Pluto, la classica confezione, questo qui è un tipo che detesto perché fanno effetto ventosa, quindi riuscire a estrarre la parte sotto ti fa un po' disperare. Ed ecco qui il nostro Pluto. Allora, è incredibile la quantità di sensori che ci troviamo, perché allora, inzitutto, è un dispositivo Bluetooth a basso consumo, tra poco vi faccio vedere la sua app dedicata, ha una batteria ricaricabile, ragazzi, questo ve lo faccio vedere subito. Vedete, qui abbiamo l'ingresso micro USB, lo colleghiamo a un power bank e vedete, va subito in ricarica. Autonomia davvero lunghissima, pienamente carico, l'ho utilizzata per una settimana, ancora dura la carica senza alcun problema. Qui abbiamo, vedete, l'uscita, abbiamo tra poco, verso la fotocamera o verso il flash, quindi per attivare lo scatto oppure il lampo del flash. Questo qui per collegarlo ai nostri sensori oppure alla valvola, vedremo tra poco. Sul davanti abbiamo il sensore di prossimità, abbiamo l'emettitore a infrarossi, che possiamo per esempio collegarlo a una telecamera Canon, fotocamera Canon che accetta il telecomando infrarossi, e un sensore di luminosità. In più integra, non so dove stanno i forollini, ecco, giustamente sono sopra, anche un sensore di rumore, quindi c'è davvero tanta tanta roba. Più abbiamo il nostro illuminatore laser, vedete qui la lucina, che uno va a puntare verso il sensore appunto di luminosità del Pluto e cosa succede? Quando noi interrompiamo, lui fa partire lo scatto. Più abbiamo un alimentatore USB con la presa inglese, ma un qualsiasi alimentatore USB, come ho fatto vedere poco fa, un classico power bank, va benissimo per ricaricarlo. Poi abbiamo bellissimo una custodia morbida in dotazione su cui riporre il Pluto e quant'altro. Abbiamo giustamente il cavetto USB, micro USB per la ricarica. Abbiamo anche, questo è carinissimo, un attacco per metterlo sulla slitta flash della nostra fotocamera, vedete qui sotto c'è la classica filettatura da cavalletto, quindi si fa una cosa del genere, poi si potrebbe anche aggiustare meglio, se facciamo una cosa così, e delle istruzioni, ma sono proprio minime, ridotte all'osso, ma è importantissimo l'app da scaricare. Sono anche molto importanti questi due cavetti che vedete qui, questo qui è quello di il cavetto di collegamento sulla nostra fotocamera. Qui infatti ho la mia vecchissima Nikon D700, questo Sigma 24-70 Serie Art vi porterò presto alla sua prova, mi raccomando iscrivetevi al mio canale che di robina carina la porto spesso. Vedete qui abbiamo il contatto e lo andiamo a posizionare qui. Non serve avvitare e via dicendo. Quindi, magari lo mettiamo qui sopra sulla nostra slitta, eccolo qua, non l'ho tirato tantissimo, ma insomma si fa con un attimo, eccolo. Quindi la fotocamera, vedete, va collegata qui in alto, dove c'è appunto il simbolino della fotocamera. Ovviamente se noi abbiamo più di una fotocamera, possiamo comprare più cave differenti, quindi se cambiamo corredo non è un dramma, il Pluto è sempre valido, basta acquistare un secondo cavo. Dopodiché, vedete, c'è anche il cavetto per collegarci a un flash, quindi lo stesso se vogliamo prendere un flash come il classico Nikon SB800, vedete che di fianco abbiamo i connettori, quindi possiamo collegarci direttamente in questo modo. Quindi possiamo scegliere se il Pluto attiva lo scatto della fotocamera o lo scatto del flash. Poi, l'altra cosa particolare, vi dicevo appunto in copertina, parliamo di drop photography, leviamo anche il laser, c'è la valvola Pluto. Semplicemente è un'elettrovalvola alimentata da una batteria da 12 volt, tipo quella dei telecomandi dei garage, o meno utilizzo per il garage, questa è da prendere a parte, non viene spedita. E questa viene collegata con un cavetto, vedete, lungo, quindi qui colleghiamo il cavetto e qua lo colleghiamo alla valvola. Valvola che va accesa, e comunque lo farò vedere tra poco. Sentete questo suono, cosa succede? Possiamo attivarlo normalmente, ma può essere il Pluto ad aprire la valvola, questo serbatoio è pieno d'acqua e fa cadere le gocce, ma tra poco vi faccio vedere come ci ho giocato con il latte. Completa la mia dotazione, questo breccetto di supporto che serve appunto per mettere la valvola Pluto a caduta. Ma quello che è più interessante di tutti è la sua app dedicata, che vedete si chiama Pluto Trigger, l'andiamo a far partire, giustamente accendiamo il Pluto Trigger, lo si capisce dal lampeggio all'inizio, anzi ve lo faccio rivedere, spengo e riaccendo, vedete che il lampeggio è qua su e vedete che sull'app, già accoppiata in Bluetooth, adesso ho sentito che ho spento e acceso, mi fa anche vedere che la batteria in realtà è carica per tre quarti, quindi ho sempre il controllo sull'app di quello che sto facendo. Quest'app è fantastica, ve lo faccio anche vedere, perché ha alcune funzioni che sono utili anche se non avete praticamente l'app. Possiamo andare a calcolare la profondità di campo, possiamo andare a calcolare la posizione del sole, mentre si basa sul GPS, possiamo andare a calcolare qual è il giusto filtro che dobbiamo utilizzare, cioè ha delle funzioni davvero utilissime, tra cui questa ve la voglio far vedere, questo è un esposimetro, utilizza, vedete, la fotocamera anteriore e quindi funziona perfettamente come esposimetro esterno. Ma le funzioni interessanti sono queste appunto, attiviamo la fotocamera e vedete che possiamo andare a controllare lo scatto semplicemente, quindi facciamo partire lo scatto, semplice. Possiamo fare praticamente un timelapse, quindi andare a fare tutta una serie di immagini, vedete quante foto, quant'era durata, quale intervallo, quale ritardo tra un altro. Possiamo andare a fare degli HDR, quindi impostando la macchina in bulb, andare a fare scatti con tempi differenti per avere esposizioni differenti. Possiamo andare a fare degli star trail, quindi appunto tanti scatti da poi fondere per creare delle tracce create dal movimento apparente delle stelle. Possiamo andare a fare dei video, possiamo utilizzare il timer e quindi andare a fare uno scatto ritardato. Oppure andando a sfruttare i sensori possiamo per esempio utilizzare il laser, vi dicevo prima. Vedete che possiamo scegliere una soglia e decidere dopo quanto scattare. Prendiamo quello per il suono. Vedete, ho impostato una soglia, quando supero la soglia, che è questo trattino qua su, parte lo scatto. Ovviamente devo attivare la funzione. L'attivo in silenzio. Parlo. 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 Vedete posso anche impostare dopo quanto tempo si riattiva praticamente il trigger. Può funzionare con la luce, con i fulmini, con gli infrarossi, quindi il movimento. Lo avvio. Quindi vedete la classica fototrappola, rileva il calore emesso in questo caso dalla mia mano e fa attivare lo scatto. Posso infine andare a prendere appunto le gocce d'acqua, l'AUX, unire più sensori, oppure anche utilizzare praticamente i sensori che sono sul cellulare. Quindi utilizza la fotocamera, il microfono, posso anche attivare appunto rilevando un movimento, rivelando una voce, oppure quando per esempio con il cellulare andiamo a una certa distanza, per esempio 5 metri del Pluto. Allora quindi è tutto lasciato, se vogliamo, alla nostra fantasia. Ma visto che il mio interesse era provare la Waterdrop Photography, andiamo a vedere il mio set appunto realizzato con un po' di latte e acqua. Bene, a mano libera questa ripresa per farvi vedere il mio setup di Drop Photography. Incentrato sulla mia Nikon D700, vi faccio vedere un attimo com'è impostata. Vedete che è impostata in manuale, vi rimando qui sopra il mio video su cosa ne penso di scattare sempre in manuale, qui il manuale serve. Dioframma F22, tempo un trentesimo ISO 200. Il tempo non è importante perché vedete, collegamento via cavo con il mio flash, ecco, lo rimetto a fuoco, SB800, anche lui impostato in manuale, con la potenza a un sessanta quattresimo. E vi dico questo, più la potenza è bassa, più il lampo del flash è veloce e quindi permette davvero di congelare a mezz'aria le nostre gocce di latte che sbattono con le gocce d'acqua che sono dentro la vapola Pluto. Mi raccomando, sull'obiettivo utilizzate un filtro protettivo perché gli schizzi di latte o altre cose, altrimenti il nostro povero micro Nikkor 60 mm diventa un disastro. Allora, sull'app io ho già calcolato il giusto ritardo, vedete, il primo flash delay. Adesso gli faccio cercare in maniera automatica a tentativi il giusto ritardo per la drop 2, la seconda goccia. Lui, vedete, prende e incomincia a sparare delle gocce ogni 5 secondi e noi semplicemente guardando sullo schermo una macchina possiamo capire quando il ritardo è giusto. Vi dico che non è un metodo perfettamente esatto perché in realtà il latte cambiando di densità ma già si vede qualcosa, in realtà non c'è un risultato uguale ad ogni goccia che abbiamo. Cominciamo a vedere gli effetti. Questo per esempio non ci dice nulla. Vediamo il prossimo. Niente. L'effetto già carino è già passato. Però vedete, lui prende e spara gocce e non dobbiamo fare altro che stare a guardare. Ovviamente tutto diventa più interessante. Questa non è male andando a cambiare tipo di liquidi. Liquidi più colorati, meno colorati, più densi, meno densi possono fare differenza. Ma andiamo a vedere insieme qualche risultato. Allora, vi faccio vedere innanzitutto cosa succede quando cade questa goccia d'acqua. Il primo risultato è questo. La goccia d'acqua cade, colpisce la superficie del latte e si crea questa coroncina di rimbalzo. Ma la cosa bella è appunto quando la goccia d'acqua prende e risale su e va a scontrarsi con la seconda goccia che viene appunto lanciata dalla valvola Pluto. E ovviamente cosa c'è? La collisione. Vedete, questa è una collisione proprio leggerissima, quindi proprio le due gocce si sono appena sfirate e si crea una leggera corolla. Ma da qui in poi è pure casualità. Può diventare una tettoia perfettamente piatta, come vedete in questo caso. Può prendere una forma molto strana con degli schizzi che vanno a destra e a sinistra. Può essere attraversata dalla goccia, quindi si apre una campana ma la goccia in realtà del latte riesce ad attraversarla. Oppure si crea, vedete, un funghetto molto molto scenografico. Tutto qui poi sta a voi giocare, ovvero andare a prendere, cambiare i liquidi, cambiare l'illuminazione, utilizzare liquidi più o meno densi, insomma andare a creare delle forme come facevi all'inizio parlando di Gianluca Sambo. Ma andiamo alle pacelline sul nostro Pluto. Bene, non male i risultati. Ovviamente si può fare molto meglio. Se volete vedere questi risultati più in dettaglio trovate in descrizione il link e l'articolo su fotogiornal.it, quindi le foto ve le potete vedere con calma. Ma passiamo alle pacelline iniziando giustamente da cosa mi piace. Allora, c'è da dirlo, dentro questo piccolino qui è incredibile quanti sensori siano riusciti a metterci dentro e funzionano tutti molto molto bene. Facile da mettere nel nostro zaino o nella borsetta più microscopica, fotografica, ed è un compagno di avventure che a Mari ci capita un temporale all'improvviso, tadam, lo tiriamo fuori e via, funziona. L'altra cosa che ho apprezzato è che è ricaricabile. Ho provato altri trigger, a Mari che utilizzano batterie di formato particolare, questo utilizza batterie ricaricabili usb, quindi anche dal punto di vista ecologico è promosso. Ultima cosa da dire, è che la potenzialità di questo Pluto è grazie alla sua app. App che permette di sfruttare sia i sensori di Pluto, sia i sensori del nostro smartphone e permette di regolare così tante opzioni, c'è molto da studiare, ma alla fine, insomma, davvero è un piacere nel suo utilizzo. Invece, cos'è che non mi è piaciuto? Allora, innanzitutto, un dettaglio, ma il fatto che sulla valvola Pluto non sia fornita la batteria dà un po' fastidio. Niente terribile, si comprano dovunque, dice la classica batteria da telecomando del garage, ma fa un po' fastidio leggere sul sito che dicono, ah, non possiamo spedirvela perché ci sono problemi per spedire le batterie. Ragazzi, anche qui dentro c'è una batteria, non diciamo scuse. Siccome il tutto costicchia, un set completo come questo, siamo sui 150€ più spedizione, insomma, sui 160-170€, una batteria, insomma, potevano anche regalarcela, ma insomma anche due. L'altra cosa che non è tanto un non mi piace, ma una cosa che voglio farvi capire in maniera ben chiara. Per ottenere bei risultati, per ottenere quelle drop photography, ho fatto 400 tentativi per avere, insomma, 4 foto carine alla fine. Quindi, diciamo, un 1% di risultati buoni. In questo tipo di fotografia, il fattore C, ovvero la fortuna, avete capito di quale parte anatomica sto parlando, è ovviamente determinante. Ed è soprattutto utile la vostra pazienza. Non dovete mollare al primo tentativo, ah, non mi è venuto una bella collisione, butto via tutto. No ragazzi, mettetevi lì con calma, studiatevi bene le istruzioni, fate tante prove, alla fine i risultati vengono, riuscite ad ottenere anche star trail, anche fulmini, però ovviamente anche lì pazienza. Se non avete un temporale, la foto con i fulmini non vi verrà. Vi arriva il temporale, fate le prime prove, non ci riuscite, dovete aspettare il temporale successivo. Insomma, ragazzi, la pazienza e il fattore C sono migliori amici del fotografo. Anche questa recensione è conclusa. Se vi è piaciuta, mi aspetto il solito mi piace. Se non vi è piaciuta, ditemi nei commenti, perché così la prossima volta la farò meglio, promesso. Se non siete iscritti, il bollino è sempre in alto e un altro dei miei video ve lo suggerisco qui a fianco. E quindi, da Gianluca e da Pluto, ciao e alla prossima!